Albano e Romina Power, arriva la frecciatina di Loredana Leciso nei confronti della coppia. Ecco cosa ha fatto la bellissima show Girl Salentina grande successo ieri sera. Per la bellissima puntata di, 55 passi nel sole, lo show musicale è andato in onda per la seconda volta su Canale 5. Lo show presentato dalla bellissima figlia della coppia Christel Carrisi, ha riscosso molto successo anche nella puntata di ieri sera. Albano celebra i 55 anni di carriera insieme alla sua ex moglie Romina Power. Un dettaglio però, non è sfuggito all'occhio del pubblico, dov'è Loredana Leciso? Un po' di giorni fa, però un'indiscrezione è arrivata direttamente dal magazine Gossip Spy. La bellissima Loredana, pare che non sia stata presente alle due puntate dello show, proprio perché non è affatto gradita da Romina Power. Quella non la voglio. Avrebbe detto la bellissima cantante americana. Addirittura si presume che Romina, abbia preso delle misure di sicurezza, una clausola nel contratto, in cui dichiara l'esclusione della Leciso dal programma. Ma smentire il tutto è stato proprio Albano, che in una recente intervista a, Verissimo, ha sottolineato che a rifiutare l'invito al programma, è stata proprio la Leciso, ma in tanti sospettano che sia una bugia. Poco prima della puntata, 55 passi nel sole, la bellissima showgirl Salentina, ha però voluto riscattarsi, per non essere presente allo show del suo ex marito. Sul suo Instagram, infatti, ha postato un video dove si fa vedere sorridente in compagnia di Albano, Pupo e Maravenier, mentre si dilettano a cantare le canzoni del suo ex marito. Ad accompagnare il video, una didascalia, un uomo di grande successo che ha collaborato con diversi artisti come Bruno Martino, Toto Cotugno, Fred Bongusto, il grandissimo Massimo Ranieri, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Mina e tantissimi altri. Ha lavorato con i migliori artisti dell'epoca ed è entrato nel mondo dello spettacolo in punta di piedi prima nell'orchestra della Rai e successivamente si conferma come direttore, lavorando in collaborazione per diversi programmi televisivi. Tra le collaborazioni più note ricordiamo quelle con la bellissima coppia Albano e Romina Power, in cui si è occupato di curare, per un lungo periodo gli arrangiamenti della coppia, in molti tour internazionali. Albano ancora sconvolto dalla notizia ha dedicato un post all'amico deceduto ed infatti sul suo profilo social scrive Un amico, un musicista, un compagno di viaggio nel mondo è volato via. Ci guarderà da lassù e mi sembra di vederlo, seduto su una nuvola bianca con il suo sorriso unico ed indimenticabile e con il suo pianoforte. Ci mancherà i Buck. Ma noi ci stringiamo al dolore del mitico Albano e possiamo solo sperare che Buck stia in un posto migliore.